Io so, perché il sasso di Dio, che la vera non dà, perché è portato a piedi, a piedi, e sono i sacerdoti, carica, e dà. Io so, perché il sasso di Dio, che la vera non dà, perché è portato a piedi, e non dà. No, Andrea, fratello buono e fedele, io non pensai così. Pensai, questo pensai. E alcuni discepoli sciocchi di quelli che vivono in miracoli solo con gli occhi, senza capire, pensai che forse uno di loro, o due, o tre, l'avessero portato via. E' l'illusione che anche il suo cadavere potesse compiere prodigie. Era di sabato, lo so. Ma voi sapete che non tutti erano lì, e al sabato c'erano le discepoli sciocchi, che non capivano, che vedevano solo con gli occhi. Altri pensarono che fosse stato il governatore proprio di Dio. Ma voi sapete che non ci erano lì, e al sabato c'erano lì, e al sabato c'erano le discepoli. Ma voi sapete che non ci erano lì, e al sabato c'erano le discepoli. Ma voi sapete che non ci erano lì, e al sabato c'erano lì, e al sabato c'erano le discepoli. Ma voi sapete che non ci erano le discepoli. invece devi sapete che non ci erano lì, e al sabato c'erano gli occhi. Ma voi sapete che non ci erano le discepoli. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.